Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con l'appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. Finalmente tra l'altro un Xur decente e incominciando subito dalla classe del titano troviamo il bastione del crepuscolo, un torace esotico introdotto con il re dei corrotti il cui effetto sarà quello di consentirci di effettuare uno scatto in aria in una qualsiasi direzione. Questo qui sarà uno di quei pezzi d'armatura passivi dove per essere sfruttato il giocatore dovrà essere abile nell'utilizzarlo e vi garantisco che se riuscirete a utilizzarlo a dovere la vostra mobilità verrà aumentata tantissimo. Ne consiglio l'acquisto. Per la classe del cacciatore venderà il falconotte celestiale, casco esotico da utilizzare con la sottoclasse del pistolero il cui effetto sarà quello di darvi soltanto un colpo nella pistola d'oro ma il cui danno sarà moltiplicato per 6 e per il pve questo pezzo d'armatura è uno dei migliori per il cacciatore, consiglio l'acquisto. Infine arriviamo allo stregone dove vendrà gli artigli di amkara che forniranno una seconda carica dell'abilità corpo a corpo. Utile con praticamente tutte e tre le sottoclassi, utilizzabile tranquillamente sia nel pvp che nel pve, ne consiglio anche qui l'acquisto. L'arma di questa settimana poi sarà al falco lunare, uno dei cannoni portatili esotici più famosi di tutto il gioco. Nonostante tutti i nerf che ha subito, resta comunque un'arma molto divertente da utilizzare e soprattutto molto forte. Sicuramente non più al pari di alcuni cannoni leggendari con i roll perfetti, comunque è una buon'arma. Se non ce l'avete, o per collezione o per variare un po', compratela, non ve ne pentirete. E per concludere l'engramma storico di questa settimana sarà per il casco. Dunque ragazzi per quanto riguarda lo Xur di questa settimana è tutto, come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a lasciare il vostro feedback e noi ci sentiamo più tardi con il Bungie Week Update. Ciao a tutti ragazzi!